denis per il raddoppio del napoli è entrato a campo lui e il napoli ha sbloccato la partita prima maggio ora denis altro gol a porta vuota il napoli ha giocato bene però in questa ripresa merita il vantaggio una gara complicata quella contro siena negli ultimi minuti però è cresciuto moltissimo offensivamente il napoli cross perfetto denis è libero su secondo palo gargano bello dialogo con maggio un gol e un assist per cristian maggio denis sesto gol per lui 2 a 0 napoli milano per la prima volta per la prima volta per la prima volta I can't taste her on my tongue